Chi era? Come sapeva che qui c'era qualcuno? Ha portato questo per te. Ha detto che lo hai liberato. Va tutto bene, Neo. La riunione è finita, raggiungete le uscite. Agente in arrivo. Agente! Andate. Salve, ragazzi. È lui. L'anomalia. Vogliamo procedere? Sì. Malgrado tutto. Sei solo umano. Vi hanno potenziati. Sì. Sì.